buongiorno cari amici di black and white e benvenuti alla quarta puntata di american style oggi parleremo di barbecue e cibo americano enrico ci sta aspettando andiamo buongiorno enrico buongiorno grazie per essere qui con noi oggi grazie a te di avermi invitato che ne dici parlaci del tuo lavoro certamente niente io faccio il macellaio o una macelleria a verona e oggi siamo qui appunto per cercare di preparare al meglio quello che può essere un barbecue all'americana ovviamente fatto un po all'italiana spiegaci cosa hai portato quanta roba buona allora qui abbiamo dei pezzi di costata con l'osso tagliato un po alta si vede qui la prima parte del filetto in america viene chiamata la t bon e sotto abbiamo la costina di maiale che non poteva mancare qui un pezzo di taglio reale o bianco stato in realtà in america viene usata la punta di petto di manzo però come tipologia di fibra uguale e qui abbiamo i classici hamburger pronti per essere cotti per fare i panini classici all'americana sento il profumino del barbecue che ne dici se le portiamo di là certamente andiamo andiamo ecco il nostro barbecue barbecue di ferraboli bene enrico sai dirci qual è la differenza di cottura tra il barbecue italiano e quello americano allora diciamo che il barbecue americano preso come termine completo è totalmente diverso da quello che facciamo noi noi tendenzialmente e tendiamo a usare dei piccoli tagli e cuocerli molto velocemente quindi temperature alte per poco tempo loro invece tendono a fare dei pezzi delle pezzature molto grandi dei maiali interi delle spalle intere così solo che li cuociono a bassa temperatura per un periodo di tempo molto lungo e affumicandoli appunto con della legna un po inumidita a seconda della pezzatura che fanno dell'animale che fanno ci sono delle legne particolari da utilizzare ci puoi far vedere come avviene questa cottura certo certo vediamo i vari passaggi per intanto e cominciamo a mettere su queste che sarebbero diciamo molto vicine a quelle che sono le t-bone e sono quelle che ci mettono un po di più a cuocere quindi le tendiamo a mettere in verticale in modo che l'osso stesso si sterilizzi un po per la cottura questo è il primo passaggio il primo passaggio dopo di che andremo a metterle da una parte e dall'altra per pochissimi minuti fino a che diciamo le parti esterne e prendano quel colore classico brunastro vanno aggiunte delle spezie allora sempre alla fine come funziona allora si può decidere anche lì se fare una marinatura iniziale come fanno gli americani che fanno un insieme di spezie o fanno delle marinature proprio da glassare i pezzi prima o si può mettere anche a metà o a fine cottura non ha una grossa differenza a livello di sapore queste vedo sono le classi hamburger americani esatto si possono mettere insieme oppure non allora si possono mettere ovviamente insieme però appunto rispettando delle dei tempi diversi perché qui abbiamo delle pezzature di carne che un po più elevate rispetto a quello che può essere un hamburger quindi ci metterà più tempo quindi andremo a metterla prima rispetto a questa questa in quattro minuti forse dire tanto sono pronti l'importante sulla carne appunto è in questo caso qua che non è proprio barbecue ma si chiamerebbe grilling è il fatto di dare un colpo di calore molto alto inizialmente in modo che internamente la carne preservi tutta la sua umidità e che resti morbida ecco ci puoi dare qualche altra informazione sulla cottura di questa carne su questo bellissimo barbecue di ferraboli vedo che si sta cuocendo molto bene certo il barbecue sicuramente molto valido e quindi è un grosso aiuto per la cottura e abbiamo iniziato appunto con questa tipologia di carne che un po grandicella e per regolarci sulla cottura andremo a utilizzare uno strumento che per noi è molto utile che è il termometro per il rilevamento della temperatura interna dei prodotti che altro non è che un termometro con una lancetta come si può vedere qui il quale viene inserito all'interno del prodotto quindi andremo a inserirlo in questa maniera qua andremo a inserirlo fino a metà e questo ci dirà esattamente che temperatura c'è all'interno questo è molto importante perché perché la temperatura per esempio su quello che è la costata che deve essere una mezza cottura deve andare da quelli che sono i 48 gradi al centro del prodotto fino ai 52 altrimenti se sotto i 48 è troppo cruda e troppo al sangue o sopra il 52 è troppo cotta questa è la temperatura ideale mentre andiamo a mettere su tempestivamente anche queste costine che anche loro hanno comunque bisogno del loro tempo per la cottura ok vanno messe su tutte insieme vanno messe su tutte insieme esatto che è meglio sia anche per comodità di girarle durante la cottura la costina rispetto a quello che è il manzo deve essere cotta cotta significa che sempre con l'ausilio di questo termometro andremo a metterla al centro quando sarà giusto il tempo di farlo e dovremmo valutare se tenerlo tra i 70 e 75 gradi quindi la temperatura molto più alta perché il maiale deve essere cotto sappiamo che gli americani utilizzano tantissime salse per questo tipo di carne quale sarebbe quella che gli si addice allora tendenzialmente gli americani utilizzano delle salse in agrodolce o delle marinate in agrodolce e qui abbiamo alcuni esempi questa per esempio è una la classica salsa barbecue che tutti conosciamo che va spennellata sul prodotto o prima o durante o a fine cottura o questa che è una salsina che è a base di senape lime e miele anche questa è molto aromatica e molto apprezzata su tutte le carni quindi si può mettere sia sul manzo che anche sul maiale magari sul maiale andremo anche a mettere un si può mettere anche una spezzatura leggermente piccante un po di paprika ad esempio dolce così va sicuramente bene in base un po una cosa piace esatto esattamente vedo che ci sono dei bellissimi hamburger tipici americani certo ci puoi vedere un po come avviene la cottura sì allora e l'hamburger e che altro non è che carne macinata pressata queste devono avere una cottura molto veloce quindi temperatura molto alta per poco tempo per fare un buon panino sano cosa ci si può aggiungere normalmente all'interno di quello che può essere un hamburger si mettono tante salse ecco tendenzialmente diciamo che quando uno mette una foglia di lattuga un po di pomodoro se vuole una fettina di formaggio che nel nostro caso ce ne sono tantissimi che si possono mettere da sopra un po filanti e penso che abbiamo già una buona base di partenza per fare un ottimo hamburger per fare un ottimo hamburger come quelli americani sì però all'italiana all'italiana certo bene adesso abbiamo passato tutti i nostri pezzi con questa marinatura e li lasciamo qui un attimo in cottura che intanto vanno avanti per conto proprio e passiamo dall'altra parte per cominciare la cottura sugli hamburger andiamo ed eccoci al nostro barbecue di terraboli iniziamo a vedere la procedura della cottura della carne sì allora innanzitutto diciamo che gli hamburger a differenza di quelli che abbiamo già visto prima pezzature grosse come le costine o la costata con l'osso che andavano cotte a bassa temperatura per lunghi periodi e questi necessitano di avere una cottura molto veloce quindi temperature altissime per poco tempo come facciamo andremo a preparare il barbecue con una bella braccia viva bella bella viva una volta fatta la braccia andremo a riporre quello che è la griglia in modo che si sudi e scaldi dopodiché piano piano andremo a mettere sopra i nostri hamburger per la cottura quindi cominciamo con uno che è più largo e più finetto lo mettiamo qua e uno che è un po' più piccolo però un po' più altino lo mettiamo qua adesso aspettiamo esatto che il calore faccia il suo il suo lavoro vediamo anche la preparazione degli altri ingredienti certamente allora cominciamo a prendere il panino lo tagliamo da dividerlo a metà e andiamo leggermente a scaldarlo visto che abbiamo una bella piastra a disposizione dopodiché andremo a prendere il formaggio vediamo come si prepara questo buonissimo hamburger certo allora intanto prendiamo il pane che abbiamo già scalato lo riponiamo nel piatto con una palettina apposita prendiamo l'hamburger che come vediamo il formaggio nel frattempo ha fuso perfettamente aggiungiamo sopra un po' di salsina appunto ricordiamo che quella un po' agrodolce quindi abbiamo la senape mescolata con il lime e il miele e una speziatura leggermente piccante andremo a mettere delle fettine di pomodoro fresco e una foglia di lattuga pulita e spezzata a metà tiriamo il panino e buon appetito e con questo buonissimo panino cotto sul barbecue di ferraboli enrico ti ringrazio per essere venuto qua con noi grazie a te carolina ci vediamo prossimamente e state con noi